riporta il ciaetto a credo che sia fermo da un paio di mesi ma cos'è sta merda mamma mia eccola qua li mettiamo sulla marmitta originale dell mt o quella di espansione direi che c'è poco da fare eccola però sarebbe anche il caso di mettere su il silenziatore che non si sa mai gomma un po sgonfia gomma un po sgonfia un po crepata vabbè tutto normale vieni qua mamma dove eravamo rimasti ce l'abbiamo così fatta veramente di nuovo tanto non partirà mai è fermo da troppo tempo abbiamo pochissima benzina e i pedali storti ecco qua tornato magari iniziamo ad aprirle la benzina proviamo a tirare l'aria e vedere impossibile la cinghia salta e non si accende credo che sia abbastanza inutile continuare maledetto l'altra volta ce l'ho fatta a farlo partire in qualche modo più vado avanti più la situazione peggiora qua non ci credo non ci credo non ci credo è partito che fatica non ho mai fatto così tanta fatica bravo ovviamente i fari spenti così guadagniamo 2-3 cavalli devo riprendermi ci sono venuti circa 10 minuti ad accenderlo lo sento abbastanza instabile e traballante più del solito qua perdiamo le viti quindi ok tutto a posto adesso senti che bene che va l'ho guidato per diversi mesi con la marmitta originale non me lo ricordavo più così potente finalmente e quindi si va a campi non lo facevo da tanto tempo facciamolo cantare che è fermo da qualche mese mamma mia un missile ragazzi un missile senti come urla forse è un po' invergolato il cerchio o davanti o dietro perché mi vibra un po' tutto però dai è normale un ciao non ha paura di queste piccole cose dietro fronte meglio non fare mai le statali soprattutto ora che ho rimesso questa marmitta ora siamo più illegali di qualsiasi altro mezzo ok forse non proprio però ce la giochiamo è quel casino sentite bene non mi aspettavo che andasse così bene dopo tutto sto tempo e visto la fatica che ha fatto ad accendersi va fin troppo bene vorrei provare a spegnerlo e poi riaccenderlo per vedere se ho ancora gli stessi problemi però ho troppa paura ma come tira bellissimo va su anche proprio con un tocco di acceleratore oh oh credo proprio che da lì perdiamo un po' dal vedere si è fresca non finisce mai di stupirci il ceretto mi raccomando ragazzi seguitemi su instagram per vedere le mie fantastiche foto che vi piazzo lì ogni tanto ne vale la pena ne vale la pena direi che per oggi abbiamo finito con un guanto sì e l'altro no vi ringrazio per la visualizzazione mi raccomando iscrivetevi al canale andate a guardarvi gli altri video in ciao è stato un miracolo vederlo partire io vi dico solo questo sono già felice così non pensavo partisse visto com'è andato all'inizio ci vediamo al prossimo video ragazzi mi raccomando like commento e iscrivetevi al canale ciao ciao